Io ho avuto questa grandissima occasione, appunto, che è quella di entrare a far parte del team e l'ho presa e l'ho cercata come una nuova sfida. Entri a far parte di un team sportivo di vela, sicuramente il top che c'è nella vela al mondo, non sapendo nulla di vela, soffrendo il mal di mare. Però mi piace e mi tiene vivo ancora di più, perché dici ok Bruno, tu devi partire completamente da zero. Mi chiamo Bruno Rosetti, ho 36 anni e faccio parte del Power Team. Sono sempre stato appassionato di sport fin da piccolo, ho praticato tantissimi sport, fino a quando poi conobbi il canuttaggio, che ho praticato per tanti anni, sono stato parte della nazionale italiana nelle varie categorie, dal 2004 al 2009. Nel 2009 decisi di smettere di remare, perché avevo bisogno di trovare qualche altra ispirazione, qualche altra motivazione. Io ho fatto un po' di tutto, ho quattro anni a lavorare su una piattaforma petrolifera in Kazakistan, nel Mar Caspio. Allora ho raccolto la frutta nei campi, il classico di chi va a lavorare in Australia inizio. A fine 2016 ho ripreso a fare canottaggio, un po' perché mi sentivo come incompleto. Sì, il mio percorso lo sentivo incompleto. La mia filosofia di vita è sempre stato così, da quando ricordo dal ragazzino, ma oggi e lo sarà anche domani e tra 5-10 anni. Il challenge, la sfida che mi tiene vivo, il tornare in nazionale con tanti miei vecchi compagni di squadra delle categorie giovanili, di tanti ragazzi nuovi e riuscire a crearsi un posto, trovarsi un posto e dire guardate che io ci sono e vado pure forte. Non è facile, però è la voglia di vincere, è quello che mi piace oggi e domani e probabilmente sempre. La gestione della fatica, credo che sia sempre stata partendo dal canottaggio. Probabilmente è il mio punto forte, se non il mio punto più forte in assoluto, proprio in gara. Mi scatta sempre quel qualche cosa che dico perfetto. Io sto facendo fatica, di sicuro gli altri stanno facendo tanta fatica quanto me e a quel punto è il momento di dare ancora di più. Sono amico della fatica e ci devi convivere e secondo me se ci convivi bene è più facile. Te la devi fare amica. La prima volta penso finalmente, era ora, è due anni e mezzo che aspettiamo di provare questa barca, questo splendido oggetto volante. Era ora. La seconda cosa che penso subito è, devo fare subito una gran bella figura e guadagnarmi il sellino della bicicletta, diciamo così, per non mollarlo più, perché questo non nascondo che il mio obiettivo. La seconda cosa che penso è, devo fare subito una barca, diciamo così, per non mollarlo più, perché il mio obiettivo è un po' di più, perché il mio obiettivo è un po' di più, perché il mio obiettivo è un po' di più, perché il mio obiettivo è un po' di più. Grazie. 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 Grazie.